Giornalista, scrittrice, profonda conosciutrice del cinema mondiale e soprattutto di quello italiano che ama moltissimo, Eva Zauralova, insegnita dal governo francese dell'Ordine di Cavaliere, Desartes e dell'Ethera Thieu, è l'attivissimo direttore del festival di Carlo Vivari, che è cresciuto ormai in maniera esponenziale e tra i primi quattro in Europa con ospiti di rilevo mondiale che sempre più volentieri accettano i suoi uviti. A cominciare da De Niro, che poi di solito così disponibile non è. Siamo stati contenti che abbia accettato di venire e di fare una conferenza stampa affollata come non mai e questo credo che sia il massimo che ci si possa aspettare da un vivo. Al festival finito di solito spensa già la prossima edizione. Cosa tirerete fuori dal cappello a cilindro per il 2009? Abbiamo qualche idea, ma è ancora troppo presto per parlarne. Grazie a tutti. Grazie a tutti.